Il progetto di Emblema nasce da una sfida, una sfida lanciata circa 20 anni fa. Lavoravo con mio padre in un'attrezzeria meccanica, facevamo stampi e minuterie metalliche. Un giorno arriva un amico e mi lancia addosso un paio di occhiali dopo essere sceso da una moto dicendomi Luca per favore aiutami perché non riesco a portare gli occhiali sotto a un casco, mi stringono dietro le orecchie e mi fanno male. E ho pensato che un'asta molto sottile potesse risolvere questo problema. Però era una sfida ardua, difficile perché facevamo componenti, non facevamo occhiali. Abbiamo iniziato a lavorarci, abbiamo fatto dei campioni, di lì a qualche mese c'era la fiera della moto, il Motorbike Expo e abbiamo presentato i primi campioni fatti letteralmente a mano. Ho capito subito che l'idea di un occhiale che calzasse sotto al casco in maniera confortevole era una domanda molto importante e quindi è iniziato il nostro progetto. Da lì abbiamo cominciato a sviluppare i prodotti, degli occhiali semplici ma che avevano questa asta particolare sottile e corta che poteva andare bene sotto a qualsiasi tipo di casco. Se sei un motociclista o una motociclista, qualsiasi moto usi per viaggiare e per intraprendere un viaggio devi provare questi occhiali. Seguici sui social, naviga sul nostro store online e vieni a trovarci nella nostra sede di Vicenza o nei negozi che abbiamo a Milano e a Torino. Ciao! Musica 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 Musica